Grazie, sono José Luis Cicciò, manager per lo sviluppo del prodotto biodesign all'estero, rappresento oggi Apitalia, un'azienda di Padova che ha sviluppato una tecnologia costruttiva di piscine che abbiamo definito una tecnologia rivoluzionaria per la costruzione di piscine. Quando si parla di rivoluzione si parla di un capovolgimento totale di un punto di vista ed è questo quello che si permette biodesign, un nuovo modo di vivere la piscina grazie appunto a un nuovo metodo di costruzione totalmente made in Italy, brevettato a livello internazionale che ci permette di realizzare appunto un nuovo ambiente della casa e noi definiamo la piscina un nuovo ambiente della casa e non un ambiente a sé stante proprio perché per noi è un ambiente che deve essere abitabile il più a lungo possibile così come lo sono le abitazioni di una casa. Non voglio adesso dilungarmi su questi aspetti ma voglio entrare subito nell'aspetto tecnico di questa tecnologia Apitalia è un'azienda con un'esperienza pregressa nella realizzazione di laghi artificiali ventennale questa esperienza ci ha portato a capire che per realizzare una piscina non è necessario quindi questo contenitore di acqua non è necessario una struttura in cemento armato, una struttura pesante ma è sufficiente il terreno stesso che come nel caso per esempio dei laghi e del mare abbiamo milioni di metri cubi di acqua che poggiano serenamente sul terreno per cui questo è quello che abbiamo imparato grazie all'esperienza che abbiamo fatto con i laghi artificiali per cui il biodesign con uno scavo autoportante con delle pendenze da 45 a 50 gradi quindi con l'assenza totale di cemento armato siamo in grado di realizzare piscine di qualsiasi forma e di qualsiasi dimensione. Il fatto di non avere il cemento armato all'interno delle nostre piscine è un vantaggio eccezionale soprattutto per l'ottenimento dei permessi e le concessioni di costruzione e voglio spiegarvi il perché. In tutta Italia la struttura che vedete a video che ha uno spessore di 4 cm si compone di sabbia di quarzo con resina e reti strutturali ha un peso complessivo di 70 kg al metro quadro. Parlerò poi della resistenza di questa struttura ma il peso di questa struttura è 70 kg al metro quadro. È una struttura permeabile per cui l'acqua passa attraverso la struttura per cui non c'è pressione dell'acqua sulla struttura è una struttura immersa nell'acqua che non riceve spinta dall'acqua. La spinta invece viene assorbita dal terreno attraverso la membrana impermeabilizzante nera che vedete a video. Questa membrana è PDM, non è una membrana che abbiamo inventato noi, è una membrana in mercato da ormai 70 anni che viene utilizzata per canali di irrigazione, riserve d'acqua, un materiale eccezionale che ha delle caratteristiche formidabili di elasticità, 300% e di durabilità. Apro questa parentesi, promosso anche da Greenpeace come un prodotto facile da smaltire e riciclare. Il vantaggio di questa tecnologia è quindi il peso della struttura, che ho detto 70 kg al metro quadro, a piscina piena pesa meno del terreno che io ho rimosso per realizzare la piscina. Un'informazione molto importante, stiamo parlando quindi di un prodotto brevettato a livello internazionale, ciò che diciamo deve essere certificato da enti istituzionali e nel nostro caso uno dei massimi luminari dell'ingegneria dei materiali, ha appunto verificato delle prove, l'università di Modena e Reggio Emilia, appunto che la resistenza a trazione e perfessione di questa struttura è due volte e mezzo superiore a quella del cemento armato, due volte e mezzo superiore, a parità di spessore. Parliamo di una struttura per cui che non riceve la spinta dell'acqua, non ha il peso dell'acqua perché è permeabile, ma che ha una resistenza a trazione e perfessione due volte e mezzo superiore a quella del cemento armato. Parlando di un valore tecnico stiamo parlando di un RCK superiore a 300, questo è un valore molto interessante che viene appunto da questo studio e questo studio ci dice che noi possiamo realizzare una qualsiasi forma, una qualsiasi forma di qualsiasi dimensione senza il bisogno di calcoli strutturali, potete immaginare che la piscina più grande d'Europa che è 3.400 metri quadri è interamente realizzata in biodesign, è una struttura che non è stata realizzata, che è stata realizzata scusate senza alcun calcolo strutturale, quindi risparmiando in mal di testa calcoli, tempo, denaro, per cui un risparmio sotto il punto di vista di progettazione, ma non solo, abbiamo una rete di installatori in Italia e all'estero che sono in grado di installare questa piscina, una piscina per esempio di 60 metri quadri in 10 giorni di lavoro, cosa impossibile da realizzare con una qualsiasi altra tecnologia costruttiva di piscine ottenendo il medesimo risultato, stiamo parlando di una piscina che ha delle variazioni di profondità, delle spiagge, sedute, una forma libera, totalmente libera, che io posso disegnare a matita su un foglio trattato poi ovviamente con gli accorgimenti del caso, che mi permette di realizzare una qualsiasi forma. Per cui questa rete di installatori altamente qualificati sono in grado di installare una piscina in breve tempo. Installare una piscina biodesign è un discorso di semplicità e non di facilità, vediamo due cantieri qui, un cantiere a sinistra che è quello di una piscina tradizionale scatolare in cemento armato, quello a destra invece è biodesign, un cantiere pulito, un cantiere che non devasta il giardino del nostro cliente perché la forma dello scavo tradizionale invece vado a creare, permettetemi il termine, un buco nel giardino molto più grande di quello che poi sarà la mia piscina che poi devo andare a ricoprire su tutto il perimetro perdendo ancora una volta tempo e denaro. Un altro aspetto importante della tecnologia biodesign è proprio la sua ecocompatibilità, ho parlato prima dell'epidm, ho parlato dell'assenza totale del cemento armato, le resine che vengono utilizzate che sono poliuretaniche, sono resine totalmente inerti, autoindurenti per cui sono smaltibili come qualsiasi altra roccia che sta all'interno della piscina. Fatemi tornare adesso al primo punto di cui ho parlato che è quello di un nuovo modo di vivere la piscina. La piscina biodesign è un concetto rivoluzionario perché vive l'ambiente piscina come un ambiente della casa, un ambiente da arredare, abbiamo un piccolo esempio qui a video di due piscine, una sinistra e una in basso, quella in alto è tradizionale, a destra abbiamo un'abitazione di casa, questa stanza è vuota così come lo è la piscina tradizionale. L'esperienza di balneazione che io ho in un qualsiasi angolo di una piscina tradizionale è la medesima, così come la mia esperienza di vita in una stanza vuota è la medesima in qualsiasi angolo della stanza. In una piscina biodesign il concetto di arredamento dell'interno della vasca con delle spiagge, con delle sedute, con una zona relax aeroterapica, con variazioni di profondità, monoliti, rende il tutto un ambiente naturale che non deturpa il mio giardino ma anzi lo abbellisce, lo rende più bello e non solo durante il periodo estivo ma anche durante il periodo invernale per cui una stagionalità di questo prodotto eccezionale. Pensate a una piscina tradizionale in disuso, quanto può diventare brutta nel nostro giardino, quanto invece può diventare bella una piscina biodesign in disuso che però è stagionale, che diventa un laghetto dietro casa che mantiene questo elemento di vita che è proprio l'acqua. È facile quindi immaginare che l'esperienza di balneazione in una piscina biodesign è totalmente differente rispetto a una piscina tradizionale, abbiamo la sensazione al tatto, abbiamo la pietra naturale che è un quarzo naturale per cui abbiamo un prodotto naturale al tatto, visivamente naturale e che permette di vivere la piscina come viviamo la spiaggia, come viviamo un lago. Il 90% delle persone se noi vogliamo sopra una costa italiana non sta a nuotare in acque profonde ma sta bensì nel bagno asciuga, sulla spiaggia, a prendere il sole, a rilassarsi. Non credo che nessuno che abbia una 10x5 rettangolare riesca a farsi una nuotata con un metro e venti o un metro e cinquanta di profondità. Noi sfruttiamo l'ambiente di casa e il giardino per realizzare un ambiente vivibile, per cui abitabile, sfruttabile al massimo. Un altro aspetto, ultimo aspetto che volevo semplicemente ricordare che è scontato, il fatto che i vostri clienti probabilmente hanno come investimento il loro investimento più grande proprio il loro immobile, investire sul proprio immobile è un ulteriore investimento e non una perdita, per cui installare una piscina nel proprio immobile arricchisce questo lo stesso, una piscina biodesign credo che arricchisca ulteriormente un immobile nel momento in cui viene installata. Concludo semplicemente facendo riferimento a un piccolo esempio di realizzazione di una piscina biodesign proprio qui a Padova a Montegrotto all'hotel Relilax, un centro benessere molto rinomato, il committente che vedete qui in fotografia aveva il desiderio di un angolo del suo albergo per il relax e al fine di poter avere un posto dove i propri clienti avrebbero trascorso una grande quantità di tempo. Una piscina tradizionale non avrebbe mai concesso questo tipo di esperienza mentre il biodesign permette con le sue forme che adesso andiamo a vedere in alcune fotografie di vivere all'interno della piscina molto più a lungo. Questo è il progetto, ogni piscina ha il suo progetto ovviamente in alto vediamo due spiagge d'ingresso, in basso vediamo invece due angoli per l'aeroterapia, qui sotto c'è un ingresso che viene dall'interno di un'altra piscina interna, questa piscina è stata studiata proprio per adibire un'area al nuoto che è quella centrale, un'area che è quella in basso per il relax e l'aeroterapia, un'area invece per i bambini magari o per prendere il sole che è quella delle spiagge. Questo è il progetto di render, queste invece sono fotografie che mostrano all'interno della piscina vuota, vedete che è totalmente un ambiente naturale, rocce, sabbia di quarzo per cui l'esperienza di bagnazione è totalmente diversa. Vediamo questa foto bellissima di questa roccia dentro l'acqua, qui a prendere il sole. Io spero di aver illustrato brevemente quelle che sono le caratteristiche essenziali di biodesign, ma soprattutto la rivoluzione come dice proprio il titolo di questa presentazione, un nuovo modo di vedere il vivere, la piscina e di vederla all'interno dell'ambiente casa come un altro ambiente della stessa. Grazie.